Quinta edizione della Pijama Run, originale corsa ma in questo caso anche camminata non competitiva in pigiama. Importante è l'adesione della cittadinanza che si è data appuntamento nella nostra Piazza Carmine. La manifestazione è stata promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori e si è svolta in contemporanea in 23 città italiane, per la prima volta anche a Taranto. È una partecipazione straordinaria di mamme, di famiglie, di bimbi, di ragazzini. Ringrazio l'amministrazione comunale, ringrazio l'associazione dei genitori, tutte le persone che hanno sentito la voglia e il desiderio di essere vicini al reparto di onco-ematologia della città di Taranto e ringrazio tutte le donazioni ricevute che sono state di più di quelle che aspettavamo. Una riuscita opera di sensibilizzazione sul tema delle malattie oncologiche, un tema sempre più centrale per le sfide medico-sociali che ci riguardano tutti. La corsa per fare un qualcosa di buono per i bambini, quindi siamo onorati e contentissimi di fare tutto questo. L'iniziativa è organizzata a Taranto dalla Lilt che devolverà i fondi raccolti all'associazione genitori di Taranto per le esigenze del reparto di onco-ematologia pediatrica Nadia Toffa di Taranto. È una giornata che ricorda i bambini che sono malati di cancro e che sono costretti a stare in ospedale con un pigiama, quindi lo ricordiamo così, con leggerezza, però anche con un pensiero a tutti quei bambini e quelle famiglie che sono costrette a essere ricoverate negli ospedali per le cure.